Nel 2002, il 25 marzo, è stata stipulata con il Saba la Convenzione per la Progettazione e la Realizzazione e Gestione del Parcino, che ratterranno la realizzazione del Parcolo, questo è un punto di partenza contemporanea, diciamo così, naturalmente, quando si dice mai da vent'anni, si pensi a tutte, a vicende già precedenti, a ancora precedenti, ma la storia recente, appunto, parte del 2002. Questa convenzione prevede, dall'articolo 14, che Saba è stato concessionario, provvede dalla realizzazione delle opere, mediante l'assegnazione dei lavori attraverso gara di vita e della pubblica, quindi questa è data prima, è in quella convenzione che si prevede che sia Saba a provvedere dalla realizzazione delle opere, e mediante l'assegnazione dei lavori attraverso gara di evidenza pubblica, non è solo. Come prevedeva l'articolo 16 della Città di Convenzione, che non è come la convenzione così, nella lista che prevedeva, quello che è appunto la concessionaria, qualificata. La lista Saba, sotto la direzione scientifica della Città di Tese archeologica, ha avviato in data 18 aprile del 2002 la campagna di indagini e scape archeologici, che si è conclusa, imbito di ricordare quello che si sta facendo, tra la decisione del 2004, della sua intendenza, di negare l'autorizzazione a proposte iniziali del parcheggio, per ragioni appunto di salvaguarda archeologica, se non solo per un piano, le questioni che sono state richiamate. E si arriva alla fine degli scavi archeologici, alla fine di giugno 2008, intanto non passate a tutti i governi, di centro-destra e centro-sinistra, voglio dire in questo, 2002-2008, quando la sua intendenza ha effettivamente reso disponibile l'area del carcere, e alla fine degli scavi, questo e questo stesso anno, seguiti con grande attenzione in modo da poter riempire ai peccati, che ci sono stati morti, ma condivisi anche, evidentemente. Proprio caso del proclato della campagna di scape archeologici, degli oneri finanziati ad essere connessi, si è proceduto alla recensione della testa con l'atto aggiuntivo di unità 30-2006, con il quale si sono rideterminati tempi e posti per la realizzazione di scape archeologici, fino ad arrivare al 2008, con un promulgio degli scavi archeologici. In data 11 gennaio 2007, veniva approvato, con determinazione di vigenziali, il progetto esecutivo da primo lotto dei lavori, consistente nella realizzazione di paracchie di contenimento. In data 26 aprile 2007, salva i dati, a seguito di procedura di evidenza pubblica, ha giudicato all'attilo Pitelli i lavori appunto per realizzare quelle paracchie di contenimento con tecnica di portato, come c'è adesso, che sono stati realizzati e conclusi il 30 ottobre 2008. In data 31 ottobre 2008 è stato inesso il certificato di collaboro tattico dall'estituto. avendo nel frattempo acquisito l'appogliato parere del definitivo della compresa di testa archeologica in data 31 gennaio 2008, con determinazione dirigenziale, per il 31.08 è stato approvato un progetto esecutivo dal secondo lotto per l'esecuzione della struttura internazionale del parcheggio, per un importo vale data, e qui arriviamo a quello che ci si fa, di 8.316.962 euro. In data 30 settembre 2008, salva a seguito di procedura di evidenza pubblica, adotticata da Tantasea, società di appalti, spazi, macchiate, per i lavori di diffusore. Con ricorso dal 6 novembre 2008, l'impresa Paolo Pestrani, a seconda d'integra attuatoria, con il 33,66% di ribasso, rispetto al 36,72% di ribasso, offerto all'impresa SEA, prima giudicata, che presentava a Tarnombardia e a seguito di Brescia, ricorso verso il provvedimento di agitazione. Con decreto 738.8, punto. Il presidente del Stato di Brescia, coglieva l'istante della dica provvisoria, ordinando alle parti resistenti di solopendere la procedura di gara, e indivendo alle stesse di procedere sia alla stimola del contatto e alla consegna dei lavori, fissando per trattazione collegiale la Camera di Consiglio, 27 novembre 2008. Saba, SEA e il Comune di Cremona presentavano le memorie di immersive negli anni previsti dalla procedura. Il Comune di Cremona, nella sua memoria, evidenziava le proprie osservazioni in ordine alla procedura di gara posta in estere da Saba, e rappresentava, da, con particolare riguardo a distanza cautelare, la necessità di procedere ad una pronuncia che non volesse in essere un ulteriore stando nell'esecuzione e nel completamento dei lavori, stante la situazione sostenibile dell'allora in cui dovrebbe sorgere il partito. Il Comune, all'interno della propria tese, rappresentava le fortissime preoccupazioni dei residenti e degli esergenti gravitati sulla zona, nonché le gravi ripercussioni sull'attento viabilistico del comparto guidate all'esterno di esso. Sottolineava altresì il perdurante degrado ambientale e gravitizzato e la forte sofferenza palesante nella cittadinanza. Le visualità di un ulteriore prolungato perno del cantiere, si sottolinea della ricorda al Comune, avrebbe prodotto gravissimi e irreparabili prezimenti. Tentato il Comune di Cremona, autenticava una decisione, poi accolta la TAR, che consentisse di poter dare immediatamente corso ai lavori appaltati, o attraverso il ricetto dell'istanza disolventiva, oppure nell'emanazione di una decisione di merito, in tempi eccezionalmente rapidi. il TAR, con sentenza, depositato il 28 novembre scorso, ritenendo fondato uno dei due motivi riceviti dalla Pestrani e S.P.A., ma accogliendo uno dei due motivi, accogliendo il ritorno della Pestrani e S.P.A., annullando il provvedimento in Pugnano, vale a dire l'atto con il guarda con il passato. Nella sua qualità di concessionario, il Comune di Cremona, aveva dedicato alla S.P.A. i lavori di realizzazione del secondo trato, per la costruzione della Pestrani e S.P.A. e S.P.A. e S.P.A. la Pestrani e S.P.A. la Pestrani e S.P.A. la Pestrani e S.P.A. e S.P.A. e S.P.A. e S.P.A. e S.P.A. e S.P.A. la Pestrani e S.P.A. 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 viene che dei lavori vengano messi in discussione da chi non vince l'avete appalto e quindi vi sono normalmente dei ricorsi all'art proprio di questo tipo. In amministrazione, ripeto, di ogni colore politico, da riservare infatti grazie all'impegno della nostra cultura e riguarda l'occupatore, la suizificazione precisa anche della nostra amministrazione, si sono ridotti i dati, si è ridotto il tempo del blocco dei lavori, appunto, grazie a una decisione di questo tipo che entra nel tempo e che riduce rispetto ad un tempo indefinito come poteva essere prima la conversiva e poi l'entrata del tempo in maniera, appunto, che per il successivo si è ridotto il periodo evidentemente di attesa e nel giro del tempo relativamente breve potremo avere la risposta, questo non toglie nulla il disastro che ciò ha creato, non toglie nulla la dissenza di andare avanti più in fretta possibile nell'insistere su questa linea che vi ha seguito, che cioè noi non parteggiiamo per nessuno, noi vogliamo fare i lavori più presto possibile, questo è il punto fondamentale e credo che le istituzionalizzazioni rimangano davvero un motivo di essere, un motivo di successere.